Ho provato per la prima volta HelloNeggbur e non sto scherzando, non ci avevo mai giocato ed è stata un'esperienza abbastanza particolare. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Ma possibile mai che ho appena iniziato e già mi sono buggato? Ma perché sono in un armadio? Videogioco? Videogioco? Grazie eh! Gentilissimo! Ero stato rapito da un armadio, ci rendiamo conto? Comunque sì, lo so, non insultatemi, ma non ho mai giocato a HelloNeggbur e non so minimamente cosa si debba fare. So solo che questa è la nostra casa, veramente carina e gigantesca, e questa è la casa del vicino, che è tipo mangiata, con una macchina che ha distrutto tutto, e una finestra che è stata appena spaccata da quell'imbecille. Oh! Non spaccare le finestre! No ragazzi, ragazzi già mi sta... Bababoy! No 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 no, eh, eh, scimmia, scimmia, stai tranquilla, ok? Evita di uscire dalle finestre, ti spacco la testa, vieni! Uh, uh, io scimmia, io scimmia più di te, io scimmia più di te, oh! Entro con... Ah! Ok, no, non posso essere più scimmia di lui. Shhh! Adesso con molta calma, che belle scarpette! Zitto, 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 che devo fare? Oh mio Dio, c'è una palla da bullying! Posso spaccargliela in testa? No! No! Stiamo tutti calmi, ok? Questa porta è chiusa, serve una chiave. Eh? Oh! Dove sta? Quest'armadio... Ah! Ah, ma allora si può entrare negli armadi? Prima mi aveva rapito! No ragazzi, ragazzi mi è vicinissimo! Ah! Mi sa che è dentro questa porta con il lucchetto! Ok, ok, zitto, 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 c'è qualcosa nei cassetti? Ma che è diventato? Roblox Doors! Eh? Eh? Calmi! Forse è qui dentro! Ehi là! C'è nessuno! No 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 no! Mi sto caccando sotto! Vicino! Ah! No 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 no! Scherzo! 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 Scherzavo! Ero venuto a chiedere se per caso ti ritrovassi un cavatappi... Un cavatappi in più! Eh? Ce l'hai? Eh? Devo stappare la boh! Ma è pazzo? Ma si mette a saltare da solo? Ti lancio la monnezza presso! Ok, ma se lui entra di là posso prendere... Ma ho acceso il tagliaerba! Tagliaerba! Oh no! Oh no! Così mi taglio i piedi! Ma? Posso guidare il tagliaerba! Vai tagliaerba! Conquisteremo la casa del vicino! Molto lentamente! Ma la conquisteremo! Devo assolutamente trovare... Ma che? Ma mi ha lanciato il pomodoro! Ehi! Stai tranquillo! Aspetta! Lì c'è una scala! Ok? Non posso più correre! Che devo fare? Sali! No 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 no! Basta lanciarmi i pomodori! Ok? Piano! Piano veloce! Nell'armadio! Zitto! Zitto! Sono entrato in casa sua e sono nell'armadio! Qui non mi vedrà... Mai! Non è vero! Scherzavo! Non ci sono! Io sono invisibile! Tu non mi ve... Eh... Forse mi ha visto... Ma? Eh... Ragazzi c'è un problema! Ma dove mi trovo? Non sto capendo! Non sto capendo! Perché mi ha detto di andare da quella parte? Ma siamo amici! Ma sei scemo! Ma ti riprendi! Ma perché sta zoppicando? Ah! Forse è la sua storia! La macchina? Che ha fatto incidente? No! Che succede? Perché piangi? Non piangere bro! Ti vengo a salvare io! Ah! Ma c'è una scarpetta da donna! Forse ha perso la moglie bro! Vieni che ti do un abbraccio! Vieni qua! Vieni qua che ti abbraccio! Vabbè! Se non vuoi essere abbracciato... Io me ne vado! Ok? Sono in paradiso! Sono diventato cieco! Aiuto! Però almeno piano piano stiamo capendo il perché della sua cattiveria! Aspetta! Aspetta! Ma da qui si può salire! Vai! Vai! Parkour! Parkour master! Ok? Piano! Vai! Vai! Sali! No! Non sale! Non sale! Un attimo! Un attimo! Non ti incastrare! Vai! Vai! Sali! Oh! Aspetta! E sali! Bestia che non sei altro! Sali! No! 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 Ok! Ok! Allora! Qui c'è della corrente! Ho attivato la corrente! Oh! Oh! No! Ragazzi! Mi sto cacando sotto! Eh! C'è una... Ah! 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 No! Sì! Sfufi! Via! 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 Ah! Ma che mi lancia! Aspetta! Aspetta! Devo capire! Ok? Ah! Basta! Comunque secondo me devo arrivare nella finestra rossa lì sopra! E l'unico metodo... Vabbè! Tu intanto fai stretching! L'unico metodo è fare parkour sulle librerie! Ma non funziona! Devo trovare qualcosa in casa che mi faccia salire! Tipo la televisione... No! La televisione si accende! Il registratore! Una lampada! Perché tutti i cassetti sono vuoti? Vogliamo riempirli? Tipo con una pistola? Con un taser? Un bazooka? Tutte queste cose qui? No! Qua dentro ci sono solo scatole! Si può fare qualcosa con queste scatole? Dai! Oh! Ci sono degli occhiali! Dammi gli occhiali così lo vedo meglio! Oh! Ma si possono raccogliere gli oggetti? Oh! O sono io che non conosco i tasti? Gioco! Dai! Da... Oh! Finalmente! Posso metter... No! Li ho lanciati! Quindi posso prendere le scatole! Lo sapevo che si potevano prendere! Sì! Le prendo tutte! Le prendo tutte! Altro che Minecraft! Costruisco una torre e ti entro in casa dal tetto tipo Batman! Vieni qua! Vieni qua! Aspetta! Aspetta! Ma posso prendere anche il coperchio della monnezza? Così per curiosità? Che devo fare? Ah! Forse ho gli slot pieni? To! Guarda qua! Te lo lancio appresso! No! No! Mi serve! Mi serve! Altro che Capitano America! Sono Capitano Monnezza! Con il mio scudo di monnezza! Ora però devo trovare un modo per salire... No! 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 Sono... Sono quello della ditta delle consegne! E c'è un pacco per te! Imbecille! Tieni! E questi sono tuoi! Divertiti! Anche la monnezza! Scemo! Zitto! 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 Salta! 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 Ma i controlli di questo gioco sono stati sviluppati da una scimmia? No! Perché se no non si spiega! Non si spiega! Ok piano! 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 Ok! Ok! Che devo fare? No! No! Aspetta! Aspetta! Minecraft mi insegna! No! Minecraft non mi insegna! Oh! Ok! Sali! Sì! Sono sul tetto! E adesso? Come ci arrivo? Eh ragazzi? C'è un problema! Posso tipo fare... Eh! No! Non sulla parabola! Brutto imbecille! C'è un ostacolo c'era! E sono riuscito a prenderlo! Ah! Ma forse devo entrare da quelle finestre e poi fare il giro! Ok! Ok! Vieni qua! Scudo! Perfetto! Piano! 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 Effettivamente stavo cercando una strada leggermente difficile! Non cadere! Ok! Sì! Ho detto non cadere! Ma allora sei veramente una scimmia! Perfetto! Piano! 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 Vai! Vai! Ma perché? Non sale più! E salta! No! No! Salta! Salta! Non va più! Ragazzi! Ragazzi è diventato stupido! No! 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 Devi saltare bro! Devi saltare bravo! Eh! Ma io come ci arrivo? Ah! Aspetta! No! Piano! Piano! Vai! 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 Bravo! Aspetta! Aspetta! Sì! Sì! Spacca! Non si è spaccato! Si è spaccato! Zitto! Zitto! Che devo fare? No! No! Mi sta aspirando giù! Fermo! 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 Ragazzi! Che devo fare? Gli lancio le scatole! Ok! Devo fare questo? No! 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 Posso scavalcare? Ok! Posso scavalcare? C'è una chiave! C'è una chiave! Apro questo! Ok! Boh! Nel dubbio butto pure la chiave! Qualcuno può darmi una ma? No! Ma? Ma sono chiuso qui sopra? Ma what the fuck? Ah! Ma ci sono altre chiavi? Posso prendere la chiave? Ho preso un'altra chiave! Sì! Ok! E adesso sono comunque intrappolato! No! 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 Stare qui sopra mi mette ansia! Tantissima! Ancia! Cosa è successo? Aiuto! Ah! Ma non è che questa è la chiave della macchina? Oh! Oh! Dai! Vai! Assassin Creed! Perfetto! No! 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 Eh! Stai buono? Ti lancio la chiave negli occhi! Stai buono? Stai al posto tu! Stavo scherzando! Fai quello che vuoi! Che ansia! Zitto! Zitto! Secondo me è la chiave di questo? Sì! Lo sapevo! Cos'è sta roba? Ma è un magnete? Ma che ci devo fare? Aspetta! Tieni! Prendi la scatola! Che ci devo fare con un magnete? Oh! Lo devi prendere! Posso... No! No! Ma sei imbecille! Ma si può usare? Posso attrarre le cose? Guardate! C'è tutto l'effettino fighissimo! Sì! Ma cosa dovrei attrarre con un magnete? Ma scelza! Ma! Ma c'è alzata la... What? No! No! Questo non l'ho capito quando è successo esattamente! Ma qui c'è una finestrella! Ma non l'avevo vista! Aspetta! Aspetta! Piano! Piano! Minecraft! Oh mio Dio! Ma c'è una pala! Posso prenderla! No! No! Ce l'avevo fatta! Da lì dietro avevo preso qualcosa! Dimmi che l'ho fatta cadere a terra! Non l'ho fatta cadere a terra! Va bene? Piano! 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 Piano piano piano! Ok 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 ok! Salta! Salta! Ok! Dai! Sì! Che cos'è questo? Ma io non stavo cercando questo! Ma cos'è? Ho questo per aprire le porte! Il lucchetto dentro casa! Tutto si collega adesso! Però devo trovare un modo per distrarlo! Piano! Piano! Zitto! 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 Piano! 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 Guarda! Guarda! Dai! Muoviti! Lo sapevo! Che devo fare? No! Chiudi! Che devo fare? C'è una chiave inglese! No! No! Prendila! Prendila! E adesso... Scappa! 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 Ho preso una chiave inglese! Ok! A cosa potrebbe servirmi? Ma poi quant'è grossa! Posso spaccargliela in testa? Ah! Aspetta! Aspetta! Forse per l'ascensore! No ragazzi! Ragazzi! Mi si sta aprendo un mondo non ci provare! Non ti permettere! Devo aprire quello forse! Non ti permettere! Non ti permettere! Ah! Ah! No! 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 Basta lanciarmi i pomodori! La devi smettere! Vai! Vai! Taglia erba! Uccidilo! Ah! Ah! No! 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 Se perdo la chiave inglese impazzisco! Vai! 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 Veloce! 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 Non mi ha visto! Non mi ha visto zitto! Zitto! Che qua stanno le finestre! Piano! 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 Dai che avevo ragione! Dai che avevo ragione! Dai! Sì! Avevo ragione! Sono un genio del crimine! Che devo fare? Ah! Sto dalla finestra rossa! Aia! Ok! Che devo fare? Che devo fare? C'è una chiave! Eh! Posso prendere la sedia! Vabbè! Spacca! Ok! Ok! Riprendo la chiave! Veloce! Veloce! Ok! Sai lì! Qui dentro c'è una bambolina! C'è un orso! No! 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 Ma! C'ho pila! C'ho pila! No! 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 Mi sono cacato addosso! Pensavo di avercelo dietro! Ok! Ho una chiave rossa! E non ho paura di usarla! Non so come la userò! Ma la userò! Circa! Credo! Devo entrare in casa! E trovare la porta con il lucchetto rosso! Suppongo! Ok! Forse da questa parte no! Ehi là! C'è nessuno! Lucchetto rosso! Vai! Oh! Ce l'ho fatta! No! Siamo nello scantinato! No ragazzi ma che figata! Eh! Ok! No! Sono un po'! Ma! La lavatrice! Era una porta! No vabbè! No vabbè! Sto per impazzire! E c'è un letto con delle candele! No vabbè ma che figata! Sì! Ma questo è palese un disegno! Ragazzi che avete creato il gioco! Ma questi sono disegni! Ma posso prenderlo? No vabbè! Ma io sono un genio del crimine! Che però si sta leggermente caccando addosso! Che devo fare? Ok! Qua c'è un'altra porta che non si apre! E questo? Posso premerlo? No! No! Sono un imbecille! Sono un imbecille! Aspetta! Ho chiuso la... 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 No! No! Che devo fare? Ma perché c'è tutto questo qui giù? Ma dove sono finito? Prendi i mattoni! E li spacco in testa! Prendi anche una sedia! Ok! Ma perché sono in un labirinto? Basta! Dove devo andare? No! 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 Ma che paura! Che paura! C'è un muro? Ok! Ah! Ma che spavento! Ma perché devo dare le testate ai muri? Vicino di casa? Sono qui solo per un po' di zucchero! Ce l'ha... No! 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 Che devo fare? No! No! Ragazzi! 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 No! 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 Questa? Questa porta? Come la apro? Come? Ah! Ma devo tornare indietro? Aspetta! Aspetta! Citto! 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 Forse devo tornare indietro! Ok! Aspetta! No! 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 Dov'è indietro? Dov'è indietro? Aspetta! 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 Forse ho capito! Vai vai! Zitto! 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 Ok! Ok! Abbasso! Penso di avercela fatta! Ragazzi mi sono completamente perso! Non so dove sto andando! Oh! Si è aperta la porta! Perché ho tolto la corrente! Allora era giusto! Oh mio dio! Oh mio dio si è aperta l'altra porta! Ok! 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 Via! 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 No! 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 No 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 no! Scappa 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 piccolo pogo! Scappa piccolo pogo! Scappa piccolo pogo! No! No! Servono delle chiavi! Le chiavi! Le chiavi! No! No! Non posso entrare! Non posso entrare! Atto 2! Quindi ce l'abbiamo fatta Ma questa non è casa mia e non ho più le scarpe Mi ha rubato le scarpe Infame, ridammi le scarpe No, mi ha chiuso dentro Maledetto al prossimo video Ma questa sul mio letto è cacca